Amazon sta sperimentando l'acquisto a rate in Italia. Che cosa significa? Significa che quando il servizio sarà a regime potrete acquistare alcuni prodotti pagandoli a rate senza interessi. Esattamente la stessa cifra che aveste pagato in una volta sola, questa volta invece la smezzerete in 5 rate nel corso dei mesi. Vediamo come funziona o meglio come funzionerà, perché per il momento è davvero molto limitato, questo interessantissimo modo di acquistare sul più grande store del mondo. Ciao a tutti, scusate per l'interruzione, un brevissimo annuncio ma molto importante. Esatto, perché dal 20 di febbraio su questo canale non troverete più i video che stiamo caricando, come per esempio questo video qui. I video saranno caricati infatti sul canale di Android World, che per l'occasione sarà rinominato. Trovate il link qua sotto, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche, almeno saprete quando pubblicheremo i nostri nuovi contenuti. E adesso, buona visione. Allora, iniziamo col dire che per il momento quella dell'acquisto a rate è soltanto una sperimentazione che soltanto alcuni utenti hanno, non sembra esserci una logica precisa dietro a chi ce l'ha, a chi non ce l'ha, quindi è diciamo un po' un fatto anche di fortuna. Ma poi comunque i prodotti che ora come ora potete acquistare a rate sono veramente molto pochi, abbiamo faticato a trovarne un paio, tanto per farvi capire di quanti pochi stiamo parlando. In ogni caso, grazie ad una pagina di supporto ufficiale di Amazon, abbiamo già un'idea abbastanza precisa di come il servizio dovrebbe funzionare una volta arrivato al regime. Se il prodotto in questione potrà essere acquistato a rate, lo verrete indicato proprio nella scheda, al momento dell'acquisto. Sarà indicato infatti il numero di rate ed il costo di ciascuna di queste. Rate che poi verranno suddivise, la prima ovviamente iniziale al momento della spedizione e poi dopo 30, 60, 90 e 120 giorni, quindi 5 rate in tutto, dividendo appunto per 5 senza interessi il costo del prodotto che volete acquistare. Al momento vi dicevo che l'abbiamo verificato soltanto con un paio di prodotti, uno smartphone di Realme ed un portatile di Asus, ma ovviamente non saranno certo così illimitati. Anzi, quali saranno i prodotti che potremo acquistare in questo modo su Amazon? Beh, ci risponde appunto Amazon stessa dicendo che a rate potremo acquistare solo prodotti nuovi e dispositivi Amazon nuovi e ricondizionati certificati. Sono esclusi in generale gli Amazon Warehouse Deals. Ora bisogna anche poi capire se questo si applicherà a tutti i nuovi prodotti oppure no. E tendenzialmente vi diremmo di no, che solo alcuni nuovi prodotti potranno essere acquistati con questa formula. In ogni caso, niente Warehouse Deals. È inoltre importante specificare che se avete un prodotto che è ancora in corso di pagamento a rate non potrete acquistarne un altro, cioè dovete prima concludere le precedenti rate, prima di poter utilizzare nuovamente questa forma di pagamento, il che in fondo è anche abbastanza corretto, diciamo una forma di tutela di Amazon stessa per evitare che qualcuno acquisti a rate troppe cose e poi magari si ritrovi a non poterle pagare. È inoltre importante sottolineare che se avete scelto un certo prodotto e avete iniziato a pagarlo non lo potete cambiare in corso d'opera. Non sto parlando del reso, il reso è un altro discorso, ma non potete cambiare prodotto da rateizzare se già avevate iniziato a rateizzarne uno. E anche questo in fondo è abbastanza logico. In ogni caso, che lo abbiate acquistato a rate o che non lo abbiate acquistato a rate, le politiche di reso rimangono invariate, quindi che si tratti di sostituzione, reso, quel che è, vale la stessa cosa che vale per i prodotti acquistati in una volta sola. Ovviamente, se doveste chiedere il rimborso di un prodotto che non avete ancora finito di pagare, vi verrà rimborsata solo la cifra che avevate pagato fino a quel momento. E anche questo mi sembra pienamente logico. Chiariamo inoltre che in qualunque momento potete decidere di saldare quello che vi rimane ancora da pagare. Quindi, come vi dicevo, se voleste iniziare ad acquistare un nuovo prodotto a rate, ma ne avevate ancora uno che doveva essere finito di pagare, potete saldare in una volta sola tutte le rate rimanenti e acquistare il vostro nuovo prodotto ancora una volta a rate. Ma chi è che potrà acquistare a rate una volta che il servizio sarà, diciamo, ufficiale? Tutti gli utenti, non importa essere utenti Prime, quindi questo è, diciamo, un gradino di ingresso importante. Dovete avere un account però attivo da almeno un anno ed una carta di credito o di debito, ovviamente, associata a questo account. Non è necessario quindi passare per banche o altre forme di credito, vi basta la normale carta che utilizzate da sempre o una carta nuova su Amazon. Però attenzione perché il vostro account non può essere un nuovo account e anche questo, in fondo, lo capiamo come forma di tutela per evitare che qualcuno, in un certo senso, si approfitti di nuovi account per fare acquisti che poi magari non salderà. Si parla, infatti, di una buona cronologia di acquisti Amazon, cioè in un certo senso dovete aver già dimostrato di essere dei clienti che acquistano prodotti e non un nuovo utente che appunto arriva e prende subito qualcosa a rate. E questo ci porta poi a qualche considerazione sul cosa succede se non si paga. E ovviamente questo campo qui è ancora abbastanza fumoso perché, comunque sia, il servizio è appena partito in fase sperimentale, quindi non siamo proprio in grado di rispondervi del tutto. Sappiamo, perché ce lo dice Amazon, che se non fosse possibile addebitare la rata di un certo prodotto Amazon, appunto, la società si riserva il diritto di annullare la registrazione del dispositivo e di disabilitare la capacità di accedere ai suoi contenuti. Questo per quanto riguarda i dispositivi Amazon. In altri casi, ovviamente, le misure prese saranno diverse, del resto stiamo parlando del più grande colosso dell'e-commerce al mondo. E non credo che in fondo nessuno voglia entrare in un contenzioso con Amazon, no? Non sembra, tra l'altro, che siano previste forme di realizzazione diversa dalle 5 rate, cioè non 3 rate, 2 rate, 4 rate. Al momento si parla solo comunque di 5 rate, calcola tutto in automatico Amazon, quindi da questo punto di vista non ci potete fare nulla. E prima di formulare un giudizio, diciamo, su questo tipo di servizio, che sulla carta sembra ottimo, perché in fondo è lo stesso prezzo che paghereste tutto in una volta, diviso in 5 rate, dobbiamo però aspettare di vederlo a regime e di capire su quanti prodotti sarà davvero possibile utilizzare questa opzione di pagamento. Che ripeto, sulla carta è molto interessante, ma siamo appena all'inizio della sperimentazione, quindi è un po' presto per esprimere giudizi sia in positivo che in negativo. Ne riparleremo quindi ovviamente nei prossimi mesi, via via che la sperimentazione appunto si allargerà. Continuate a seguirci, mi raccomando, sul canale di Android World. Un saluto e alla prossima!